Per continuare nelle nostre riflessioni su che cosa noi possiamo fare in questo delicato momento, soprattutto se siamo sul versante, diciamo così, della minoranza, dare il giusto nome alle cose, si narra che ai tempi di Confucio, quindi ai 500 avanti Cristo, ci fossero delle rivolte nel sud della Cina e degli emissari giunsero da Confucio a chiedergli che fare e Confucio disse, andate e date il giusto nome alle cose, il giusto nome alle cose, stiamo assistendo a reiterati appelli alla responsabilità da parte delle più grandi personalità istituzionali, Presidente della Repubblica, il Vicario di Cristo, responsabilità, senso del dovere, istilando una certa colpa per chi non si prende questa responsabilità, dove viene dato per sottinteso che responsabilità è un certo dovere di fare qualche cosa, in questo caso pensare ai più deboli e ai più fragili, trascurando, come dire, gli aspetti culturali e scientifici della faccenda, ma lo stesso appello alla responsabilità è un non senso, responsabilità, come dovremmo sapere, significa abilità a rispondere, quindi è l'esatto opposto, un richiamo alla responsabilità dovrebbe essere un richiamo all'abilità a rispondere, caro cittadino, caro suddito, caro fedele, sii abile a rispondere, cioè informati, rifletti, ascolta e fatti seguire, fatti guidare dal tuo vero sé, queste abilità a rispondere, quando tu mi dici si responsabile, fai quello che ti dice in una certa visione, stai usando un'affermazione che si contraddice in sé, se tu vuoi il mio bene, se tu sei così di cuore e hai a cuore i tuoi fedeli o i tuoi sudditi, dovresti volere che loro siano abili a rispondere, quindi agiscono secondo scienza e coscienza, secondo quello che li guida dal profondo, secondo la propria anima, ma ti pare che delle persone affrontino tutta questa fatica, questa scocciatura di essere emarginati, di essere attaccati, di manifestare, di rischiare il posto di lavoro, per un capriccio o semplicemente perché sono fuorviati dalle fake news, ma riprendetevi signori, non lo so, forse bisogna avere la famosa compassione, perché vedete solo un pezzo del quadro, ma non vi siete mai chiesti, ma queste persone sono proprio tutte così irresponsabili, o forse invece sono abili a rispondere, perché prendono il coraggio di seguire quello che sentono in profondità, giusto o sbagliato che sia, il coraggio di agire, di essere abili a rispondere secondo quello che senti nel profondo della tua anima, questo dovreste insegnare, questo dovreste insegnarci, questo dovremmo cercare di fare a mio avviso per dare il nostro contributo in questa situazione così impegnativa, quindi tieni duro, sii abili a rispondere a te stesso, a tua anima.